Benvenuti al nuovo appuntamento con l'agenda di Sardinian Life, la rubrica con i consigli su come e dove passare il vostro tempo libero in Sardegna. Vediamo alcuni degli eventi più importanti che ci attendono il prossimo weekend. Iniziamo la nostra carrellata di eventi da Milis e il 10-11 novembre rassegna Vini Novelli di Sardegna. Seminari, mostre e degustazione all'insegna dei Vini Novelli con la partecipazione di alcune tra le cantine più importanti della Sardegna. Per maggiori dettagli possiamo dare un'occhiata al programma postato sulla pagina rassegna dei Vini Novelli Milis. Domenica 11 novembre Saboris Antigus a Gergei. Il Sarcidani mostra l'insegna della tradizione e della genuinità delle produzioni tipiche. Gergei apre la manifestazione alla scoperta di arte, cultura ed enogastronomia con la riproposizione degli antichi sapori e mestieri. Tutte le info utili le troviamo sulla pagina Facebook Associazione Proloco Gergei. A Masullas, sabato 11 novembre, Sagra del Melograno. Grande festa con protagonisti prodotti a base di melograno, poi visita ai musei cittadini al centro storico e intrattenimenti con musica e balli. Tutte le info utili le troviamo su Facebook nella pagina della Proloco di Masullas. Dal 9 all'11 novembre a Nuoro, Magie d'Inverno. Nell'incantevole cornice del Museo Etnografico va di scena l'evento dedicato al lusso, con marchi prestigiosi della gioielleria italiana e internazionale. Ad Alghero, l'11 novembre, Mondo Rurale. Una giornata alla scoperta di arti e sapori della Nurra con il progetto della filiera cerealicola per assaporare gusti unici a stretto contatto con le aziende del territorio. Possiamo scaricare il programma completo dalla pagina Comitato Zonale Nurra. Vi ricordo che tutti gli appuntamenti sono online sulla pagina Facebook di Sardinian Life. Se invece volete segnalare o promuovere il vostro evento in questa agenda, inviate una mail a infochiocciolasardinianlife.it